Nelle viscere della terra, in un laboratorio di ricerca segreto, la sicurezza è stata violata. Un virus mortale in grado di contaminare l'intera umanità si è diffuso nell'aria. Oh mio Dio! Dobbiamo uscire da questo edificio! Cos'è? È il freno! Tranquilla, siamo qui per aiutarti. Per fermare il virus è stata inviata una squadra speciale. Cinque ore fa, la Regina Rossa ha fatto una strage. Chi è la Regina Rossa? Il top dell'intelligenza artificiale. La corporazione nasconde molti segreti qui sotto. Ma gli restano solo tre ore, prima che il virus inizi a contagiare e a mutare tutta la razza umana. Mantenete la calma. Dovete uscire. Non ascoltare, è un ologramma, una proiezione della Regina Rossa. Ma è la nostra unica via d'uscita. A perla! Oh Dio! Come farà a stare in piedi? Adesso non si rialzerà più. Nessuno è immune. Resident Evil. Non uscirete vivi da qui. Non uscirete vivi da qui. Non uscirete vivi da qui.